Lascia l'incarico per assumere le funzioni di Ispettore Generale di Amministrazione, ma il quasi ex prefetto Armando Forgione nella sua Chieti lascia anche un po' di cuore. Ma intanto per me è stata una sorpresa perché tutto immaginavo fuorché avere nella mia progressione di carriera la possibilità di fare il prefetto in sede, avendo io avuto trascorsi unicamente in polizia la mia istituzione di origine. Dunque è stata una sorpresa soprattutto andare sul territorio, non più da quest'ora perché avrei sempre auspicato questo da quest'ora, ma andarlo a svolgere questo compito da prefetto. È un compito molto impegnativo perché richiede di avere quella saldezza di nervi e quindi quella capacità di governare dall'alto una serie di fenomeni, una serie di necessità di cui il territorio ha bisogno. Perché le parti sociali spesso sono in contrapposizione tra loro e quindi bisogna trovare anche il modo per poter trovare un punto di caduta unico per tutti. Le dinamiche territoriali sono completamente diverse, come puoi immaginare dalla costa all'entroterra, però tutti hanno questo attaccamento alla loro parte di territorio, quindi ho notato anche questo bellissimo rapporto con la terra che occupano. Molti sono legati ai loro paesi piccolini, ma a volte di 100-200 abitanti, molto di più che quelli che abitano in una città. I veri protettori del territorio, quelli che stanno attenti ad alcune cose, sono proprio loro, gli cittadini di questi comuni e a loro rivolgo anche il mio saluto perché sono loro che mi hanno permesso di poter, attraverso i sindaci, poter operare e avere degli alleati fenomenali perché avere i sindaci dalla mia parte è stato il segreto forse di aver realizzato qualcosa. Se invece dovesse trovare il punto debole, quello su cui non lei, ma insomma non sia ancora riuscita ad intervenire, che invece è un'emergenza del territorio? Diciamo che quando concorrono più enti è un vero problema, perché ho sempre denunciato questo aspetto della burocrazia, quella intesa in senso negativo, come non l'elemento essenziale. Vede bene che la burocrazia è l'olio per far funzionare bene la macchina burocratica e amministrativa, però quando questa burocrazia viene interpretata da Taluni come un esercizio di potere e quindi non permette il corretto fluire di un fiume, è come se noi mettessimo delle barriere così inominatamente si cercasse di poter deviare l'acqua per poter avere poi un successo personale o di categoria o di ente che deve essere superiore a quello degli altri. Io dico che questi sono stati i freni veri e laddove non sono riuscito, non per dare responsabilità a qualcuno, perché le responsabilità forse sono state più mie degli altri, ma perché non tutti hanno saputo essere fedeli e collaborativi rispetto a un progetto che deve essere portato a termine. Questo è il vero problema e credo che sia un problema non solo di Chieti e provincia, anzi, non credo, sono sicuro, è così, non è un problema solo di Chieti e provincia.